ciao ragazzi eccoci tornati con un nuovo video dove c'è Alessandro che scoccia e allora abbiamo preso uno di questi smooshy dell'altra serie non della serie frozen in the light ma della serie 1 io ho tolto già la carta per facilitarmi il lavoro perché è durissima cos'è milk l'abbiamo trovato il milkshake latte milkshake latte shiverato questo qui qua ci sono i due phone strap qui c'è il bestie qua abbiamo la checklist e qua c'è il personaggino carino carino che in teoria qua abbiamo anche la targhetta vedete quindi possiamo dare un nome mamma mia mamma mia che cavolo è? latte? tipo panna chimica e abbiamo trovato lui allora aspettate che vedo la checklist in teoria volevo la pecorella che sapevo che si poteva trovare anche in queste bottigliette così ma ho trovato lui che mi piaceva lo stesso aspettate allora intanto qua abbiamo questa questa serie di nomi che praticamente mettendo la prima lettera del nome tuo o mio e la prima lettera del cognome ci viene fuori il nostro nome smooshy tipo io sono fluffy biscuits te sei sciurro sciurro fluffy no tu sei gui gui qualcosa no quello lì e whiskers alessandro alessandro vediamo squishy 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 allora questi qua questa qua è la checklist a me piaceva tantissimo la pecorella possiamo trovare poopsie puggy jolly gill toast quello si ok lo scaldo e poi lo mangio felina fav e mini whip cream questa pallina è un facsimile non fate caso al mio inglese ragazzi kylie kitty e monkey milky no oddio che carino gattino poi abbiamo frankie fri franci e frizzi fry suki squirre 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 bell e saia sushi lolly lamb e kemi cotton candy che mi piace un sacco questa qua appunto noi abbiamo trovato credo lui basti banni e fifi frozen toast oh c'è il toast qui dentro poi besty beer e barley bacon ecco qua il toast puoi prepararmelo a me stasera vediamo il besty perché super besty perché è una bestia il toast si è una bestia aspettate un po più brutta e cattiva mamma mia aiuto come al solito fai fatica a prendere una e voilà oddio che carino ma dai ma è ridicolo questo toast guardate che carino il testino ti squisciutino vediamo se è slow rising direi super slow rising è voglia molto va bene questo è quanto il prezzo è di 14,90 euro ok alla prossima bye 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 ciao